Venite avanti francesi, potete entrare se volete, però come prigionieri. Vi avverto che tutti i nostri fucili sono puntati su di voi. Molto gentili. Quelli là ci avrebbero accolti peggio. La vostra pistola. Anche la bandiera. Ci tenete tanto alla nostra bandiera, tenente. Eseguo un ordine. Vorrei vedere in faccia chi ve l'ha dato. Tenente Alwar. Dieci secondi di tempo. Se rifiutano, aprite il fuoco. Sergente Miles, in posizione. Pronti per il fuoco. Untate. Fate almeno lo sforzo di raccoglierlo. Giù le albi. E da. Sergente, fate entrare i prigionieri allineati davanti al comando. Sì, signore.